segreteria nazionale del pd ricci non si candida cronaca due arresti per spaccio di droga terremoto altre 15 scosse nel giorno dell'immacolata un albero di centomila luci accende il natale di pesaro italservice sabato la finale di supercoppa contro roma buonasera e benvenuti al nostro telegiornale di oggi venerdì 9 novembre telegiornale che apriamo con il no preannunciato oggi da matteo ricci in merito ad una sua possibile candidatura la segreteria nazionale del pd la comunicazione è arrivata questa mattina seguito di una conferenza stampa indetta da lui ieri sera all'interno della quale ha confermato il suo pieno appoggio a stefano bonaccini e allora vediamo tutti i dettagli in questo primo servizio rappresentare chi soffre i più deboli il lavoro e chi combatte per salvaguardare il pianeta questo è il profilo dei dieci punti sul quale matteo ricci ha lavorato in queste settimane per rifondare l'identità del pd ma che oggi in una conferenza stampa annunciata ieri pomeriggio ha risposto definitivamente sulla tanto vociferata candidatura come segretario nazionale dei dem ricci non sarà la guida del pd del futuro ufficiale la sua rinuncia ufficiale il suo appoggio al presidente della regione emilia romagna stefano bonaccini una scelta derivata dall'amicizia e dalla visione politica simile che li lega e proprio la linea politica di ricci dopo un profondo dialogo tra i due verrà ripresa in parte da bonaccini in questi mesi che lo separano dalle primarie del partito in programma per i primi mesi del prossimo anno tra i due candidati che andranno alle primarie abbiamo messo a disposizione questi punti di quello che ritengo più solido un amministratore come me stefano bonaccini col quale abbiamo dialogato ha voluto discutere a lungo con me della linea politica ha assicurato che alcuni punti che abbiamo definito diventeranno punti suoi ovviamente non tutti perché questa è la nostra proposta non è la sua è giusto che lui abbia la sua ma che possa consentire a lui di spostare la barra a sinistra noi abbiamo bisogno di avere un partito più a sinistra se vogliamo recuperare i ceti sociali più deboli deve essere il partito che si batte contro le disuguaglianze un partito che si batte per le opportunità per chi non ne ha e confido che stefano faccia quello che ha detto cioè che mandi avanti una nuova classe dirigente fatta di giovani amministratori di sindaci e perché i sindaci in questi anni hanno rappresentato quella sinistra di prossimità che ha vinto e convinto nonostante tutto nonostante che negli ultimi dieci anni non abbiamo mai vinto le elezioni nazionali abbiamo vinto in tantissime città come Pesaro e quindi credo che siamo un'energia locale fondamentale per la rinascita e anche un modo per davvero cambiare gruppo dirigente e aprire una fase nuova Ripartire dai sindaci è una proposta alla quale Ricci crede molto in linea anche con quanto proposto dal primo cittadino di Pesaro per incontrarsi a gennaio con altri mille sindaci italiani una rifondazione basata sul dialogo e su una sinistra popolare nazionale come recita il titolo della convention di venerdì prossimo alle 15 a Roma dove si ritroveranno alcuni rappresentanti del PD inclusi Ricci e Bonaccini Bonaccini che alla corsa alla segreteria nazionale dovrà vedersela ora con Elish Line gli unici due candidati rimasti a delle primarie non libere alle quali Ricci per scelta sua e per scelta del partito non rappresenterà una terza proposta non sono primarie libere per cui uno candida e sono le primarie per andare alle primarie decidono i pochi iscritti che sono rimasti e di conseguenza ha un potere enorme il partito esistente non il partito del futuro il partito esistente ha già scelto da tempo che i due candidati alle primarie siano quelli quindi siamo arrivati terzi per noi è già un grandissimo risultato solo essere citato tra i papabili dopo le elezioni mi ha fatto tremare le vene, i polsi mi ha dato un grande orgoglio per chi come me è cresciuto a pane politica appunto è già un grandissimo risultato ma non è che ci fermiamo qua noi andiamo avanti cercherò di dare una mano al nuovo segretario come ho sempre fatto ma con una linea politica chiara in testa cercando di aiutarlo sul fronte sinistro perché altrimenti credo che non solo lui rischia di essere meno competitivo alle primarie ma noi rischiamo come PD di non essere, di tornare ad essere nettamente il primo partito nel fronte democratico per guidare il fronte democratico all'alternativa a queste destre E sempre di identità e di futuro del PD si parlerà nell'Open Day in programma domani sabato 10 dicembre nella sede del partito in via Salvatori come ci spiega il segretario comunale Giampiero Bellucci è una giornata importante che abbiamo collocato all'interno del percorso costituente del partito democratico è un periodo di grande discussione, di grande confronto, anche di grandi dubbi e in questo periodo si colloca anche la fase annuale del tesseramento per cui da quest'anno la modalità è quella telematica online che richiede uno sforzo più preciso e delle modalità tecniche più organizzate e per questo motivo che teniamo la sede aperta per tutto il giorno per amici simpatizzanti, iscritti che vogliono rinnovare l'adesione e vogliono anche approfittare per una discussione c'è previsto un momento di dibattito, di assemblea al mattino alle 10.30 alla quale saranno presenti il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Marco Bentivogli l'assemblea l'abbiamo appunto titolata tra la costituente del partito democratico e le urgenze del paese questa giornata la vogliamo anche caratterizzare con una modalità semplice di raccolta di generi alimentari che poi consegneremo agli enti caritativi della città proprio per segnare questa dimensione di un partito che cerca di essere vicino alle situazioni di bisogno ecco, non un partito elitario ma un partito che se deve rimettere le basi per una ripartenza lo fa ripartendo dalle situazioni di attenzione ai bisogni della città Ed ora lasciamo la politica e torniamo a parlare di terremoto perché nell'arco della giornata di ieri altre 15 scosse hanno colpito la costa di Pesaro e Fano la più forte è stata rilevata alle 8.08 con magnitudo 4 e non sono mancate le chiamate alle forze dell'ordine da parte di chi voleva conoscere l'entità del fenomeno sismico terra che ancora trema a distanza di un mese esatto da quel 9 novembre in cui due scosse ravvicinate rispettivamente di magnitudo 5.7 e 4 avevano svegliato l'intera regione Marche Ed ora passiamo alla cronaca i carabinieri della stazione di Montecchio sono intervenuti ieri sera a Gabice Mare per arrestare un 24enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Le forze dell'ordine sono state allertate dalla telefonata di una donna che veniva aggredita verbalmente dal figlio 24enne e una volta giunti sul posto i militari sono stati aggrediti dal giovane che si è scagliato su di loro spintonandoli contro i mobili Per il ragazzo è scattato quindi l'arresto e questa mattina è arrivata la convalida dei domiciliari E continuiamo a parlare di cronaca con un altro arresto questa volta eseguito dalla squadra mobile di Pesaro che a conclusione di una mirata indagine ha messo in manette un cittadino albanese di 27 anni Il giovane residente a Rimini è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti e per il reato di spaccio Lo straniero solitamente si spostava in auto due o tre volte a settimana dalla Romagna a Pesaro dove incontrava e riforniva di cocaina i suoi clienti locali Il 7 dicembre l'uomo è stato bloccato all'interno della sua vettura nella quale sono stati rinvenuti circa 7 grammi di cocaina Questa mattina è stato convalidato l'arresto con la condanna di 10 mesi di reclusione e una multa di 2.000 euro Ed ora cambiamo completamente argomento erano migliaia le persone che ieri hanno riempito Piazza del Popolo di Pesaro per assistere al magico momento tradizionale dell'accensione dell'albero di Natale che di fatto inaugura ufficialmente il Natale pesarese 100.000 luci a LED per l'albero più luminosa d'Italia e una nevicata di coriandoli bianchi hanno acceso il Natale di Pesaro nel cuore L'evento più atteso dai cittadini pesaresi ha preso vita anche per questo 8 dicembre 2022 in una rinnovata Piazza del Popolo il punto centrale più coinvolgente della città Tantissime famiglie ad assistere al noto appuntamento è diventata ormai una tradizione che anche quest'anno ha attirato migliaia di persone pronte a filmare e fotografare con il loro smartphone il magico momento Un Natale quest'anno più sobrio e meno luminoso del solito sia per le vie della città che per il centro storico come sottolineato dal sindaco Matteo Ricci Una piazza bellissima certo, quest'anno è una piazza più sobria ogni anno dobbiamo stare nel contesto nel quale viviamo quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico e quindi abbiamo evitato l'illuminare abbiamo evitato la pista del ghiaccio tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare ma è giusto così quest'anno dobbiamo stare in sintonia con le famiglie con le imprese, con coloro che stanno tirando la cinghia dal punto di vista energetico non potevamo fare cose fuori luogo nonostante questo è un Natale bellissimo un albero il più luminoso d'Italia quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico e quindi abbiamo evitato l'illuminare abbiamo evitato la pista del ghiaccio tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare ma è giusto così quest'anno a far immergere grandi e piccini nell'atmosfera natalizia impacchettata dal comune di Pesaro ci pensano le numerose attività in programma in questo mese di dicembre dall'8 di dicembre all'8 di gennaio vi aspettiamo in città abbiamo creato un palinsesto di iniziative molto succoso in pratica abbiamo coinvolto molte associazioni molte realtà e scuole della città per creare sul nostro palco di Pesaro del Cuore concerti, spettacoli di danza spettacoli per famiglie e bambini e poi comunque sia abbiamo anche coinvolto Coccole Sonore che sono quelli che diciamo in Italia conoscono di più l'ambiente giocoso delle famiglie e quindi troverete diciamo tutto quello che può servire per accendere il Natale per sentirsi uniti e vivere con l'atmosfera magica del Natale questi giorni una cosa importante ci tengo a sottolinearla che è il villaggio di Babbo Natalis che abbiamo realizzato in collaborazione con Abis in via Curia e la Pesaro portate i vostri bambini perché è molto molto interessante avremo un pony avremo Babbo Natali in persona che richiederà le letterine dei bambini e in più i quattro portali del Natale che sono delle sculture luminescenti che abbiamo messo nelle quattro vie di ingresso alla città tante tante cose per un Natale sicuramente bello e caldo L'ospedale San Salvatore di Pesaro è tornato a riaprire il punto nascite e dopo quattro giorni ha dato il benvenuto al suo primo bambino venuto alla luce si tratta di un maschietto di tre chili e mezzo italiano che attorno alle 17 di ieri è stato preso in braccio per la prima volta da sua mamma al termine di un parto cesareo Lunedì 12 e martedì 13 dicembre si terrà a Pesaro il primo festival regionale di teatro in carcere un progetto dell'ufficio del garante dei diritti della persona della regione Marche e della città di Pesaro L'iniziativa sarà aperta ufficialmente lunedì 12 alle ore 10.30 presso la sala convegni di Villa Borromeo con un programma che prevede la presentazione di opere video che documentano laboratori produttivi realizzati con detenuti e detenute e due performance una all'esterno e una all'interno del carcere il secondo giorno del festival martedì 13 si aprirà alle ore 9 presso l'aula magna dell'istituto comprensivo statale Galilei una scuola con una lunga esperienza di progetti interculturali di interazione fra carcere e territorio all'interno dell'istituto si terrà un incontro con il teatro delle marionette e l'organizzazione di una installazione di teatro sonoro che avverrà nel teatro comunale di Cagli nelle giornate del 29 e 30 dicembre sarà uno speciale concerto dal balcone di Casa Rossini ad inaugurare domenica 11 dicembre alle ore 19 la masterclass finale di Cantiere Città per le 10 città finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2024 in programma a Pesaro città vincitrice del riconoscimento lunedì 12 e 13 dicembre il progetto è promosso dal Ministero della Cultura e realizzato dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle attività culturali protagonisti del concerto saranno gli ex allievi dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda dove per l'occasione saranno eseguiti brani dal barbiere di Siviglia e dal turco in Italia del ricco calendario di eventi di Pesaro nel cuore 2022 fa parte anche il concerto del nostro Davide Pagnini il giovane ma già affermato cantautore pesarese quasi a festeggiare le 100.000 visualizzazioni raggiunte nei giorni scorsi su YouTube dal suo video Rivoluzione Artistica salirà sul palco di Piazza del Popolo domani sabato 10 dicembre alle ore 18 nell'ambito delle attività programmate da Pesaro Village con il concerto Canta il Natale un bellissimo ritorno live e una bella opportunità per rivedere Davide all'opera in quella che è la sua principale attività artistica e se ieri sera Pesaro ha inaugurato ufficialmente il Natale l'area natalizia al Garden Center Florio si respira a pieni polmoni già da tre settimane Per il periodo natalizio abbiamo pensato una serie di attività ad hoc per far vivere ai nostri clienti, a tutti i cittadini e soprattutto ai bambini la magia del Natale tutti i giorni sarà Natale ma i weekend saranno magici a partire dalla casetta di Babbo Natale dove tutti i weekend Babbo Natale in persona vi aspetterà per la consegna delle letterine e per fare insieme una fotografia inoltre sempre tutti i weekend ci saranno diversi laboratori ai quali i bambini potranno partecipare il primo tra tutti è sicuramente quello della letterina di Babbo Natale dove attraverso l'aiuto degli elfi di Babbo Natale ci sarà la possibilità di scrivere la letterina e poi di consegnarla alla casetta e a Babbo Natale che abbiamo appena visto regaleremo ad ogni bambino un piccolo albero di Natale e lo rinvaseremo in un vaso leggermente più grande questa iniziativa oltre a far mettere le mani nella terra i bambini ha l'obiettivo di sensibilizzarli sul rispetto della natura eccoci davanti al presepe con figura a grandezza naturale dove tutti i weekend i bambini troveranno un piccolo pony e una dolce cavallina ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo all'interno del santo presepe e di fare anche una foto davanti alla natività e tutto questo in collaborazione con il Pino Rence la novità di quest'anno è la collaborazione con la Zero Limits di Pesaro in via degli Abetti numero 10 che ci ha consegnato dei fantastici trattorini e abbiamo insieme realizzato la Zero Limits Tractor Track una pista per bambini dove cercheranno di arrivare fino all'arrivo attraverso un percorso non facile in sella ha dei fantastici piccoli trattori da spingere o con cui pedalare e per tutti i bambini tanti piccoli animaletti da scoprire come questa dolce gallina moroseta dal suo nome moro per via della pelle completamente nera e seta per il piumaggio particolarmente bianco e morbido oltre le tantissime iniziative che abbiamo appena visto laboratori e attività per i bambini per i più grandi abbiamo anche un ampio showroom natalizio con tantissime decorazioni alberi, palline, lanterne lavorate artigianalmente centro tavola e soprattutto tantissime piante perché questa è la nostra natura vi aspetto qui al Garden Center Florio di Pesaro perché tutti i giorni sarà Natale ma i weekend saranno magici e attenzione perché potrebbe nevicare Ed ora parliamo di sport con l'anniversario dei 50 anni dei Gentleman il club di Pesaro di calciatori over 40 fondato nel 1970 una cerimonia che si è svolta all'hotel Flaminio e che ha atteso due anni a causa del covid ma che Rossini TV ha seguito con le sue telecamere per la realizzazione di uno speciale televisivo che andrà in onda martedì 13 dicembre alle ore 21.40 intanto guardiamo una breve sintesi Amiche e amici di Rossini TV benvenuti, benvenuti in questa serata nella quale noi siamo venuti all'hotel Flaminio la sala Tritone alle mie spalle ospiterà questa convention per festeggiare i 50 anni di vita dei Gentleman associazione pesarese storica associazione squadra di calcio in realtà decine e forse anche centinaia di giocatori sono passati attraverso questo marchio perché? perché sono tutti professionisti ex professionisti gente che comunque ha giocato a calcio a qualunque livello e vuole continuare a farlo nonostante gli anni che passano i Gentleman sono veramente un marchio di fabbrica di un qualcosa di importante sono un marchio di fabbrica di chi vuole continuare a fare sport che al di là del risultato insegue per poter mantenersi vivo per poter mantenersi giovane per poter fare davvero questa cosa insieme agli amici ti porta a fare queste cose perché effettivamente noi siamo un gruppo che ci divertiamo giochiamo alla sera o al sabato mattina però per organizzare così ci vuole una passione ancora più forte e credere in certi valori che sicuramente lo sport e questo club ci ha trasmesso e vorremmo che trasmettere anche le altre persone perché visto come gira il mondo insomma il pallone è la prima cosa che abbiamo utilizzato da piccoli e ci ha sempre messo insieme tanti altri compagni e amici ed è un simbolo importante a maggior ragione ancora di più per una equip per un team come i Gentleman che da 50 anni si divertono giocando pallone ci siamo divertiti tantissimo abbiamo giocato tanto abbiamo fatto tornei internazionali tornei italiani insomma ci siamo abbiamo condiviso questa passione del pallone con tante persone il pallone la passione allo sport è educazione è morale è etica è rispetto per l'ambiente il calcio camminato è una cosa che in questi ultimi tempi nasce ha una visione buona perché nasce per far divertire le persone che hanno un'età ormai avanzata che hanno giocato pallone da sempre ma attenzione io li ho visti questi ottantenni che corrono come dei matti altro che calcio camminato perché li ho visti ovviamente il calcio camminato è semplicemente una regola che dice non fatevi male ma per il resto se c'è agonismo se c'è sport ovviamente un po' di corsa e di sana competizione ci vuole il necessario i gentlemen sono un gruppo anche si vede stasera di gente appassionata di calcio tifosa di calcio ce ne sono tanti che continuano a giocare ancora mi chiedevano anche a me se andavo a fare due tiri ma non ce la farei né per le qualità tecniche né per quelle fisiche attualmente però vedere tanti amici qua perché tanto poi Peso è una città piccola ci conosciamo tutti che si ritrovano prima del Natale per festeggiare i 50 anni di questa associazione che oltre a giocare a calcio si diverte giocando a calcio andando in giro per l'Italia e per il mondo io ho avuto modo di collaborare quando avevo la delega allo sport con i vari presidenti che si sono succeduti dei gentlemen e si sono fatti grandi tornei sia a Pesaro che a Gabice poi è un modo per stare insieme e qui non ci sono solamente i giocatori o ex giocatori ci sono anche le famiglie quindi vuol dire che è una passione coltivata anche in casa dal calcio amatoriale concentriamoci ora sul calcio a 5 con l'Ital Service Pesaro che si sta preparando per la sfida di Supercoppa di domani sera contro l'Olympus Roma per l'Ital Service Pesaro è tempo di staccare la spina dal campionato chiudere le valigie e partire per Roma per giocarsi la finale di Supercoppa ad attenderla sabato al Palacisaroni di Genzano alle ore 21 ci sarà l'Olympus Roma vice campione in carica della Coppa Italia conquistata qualche mese fa dai Biancorossi a salso maggiore terme dopo il successo degli uomini di Colini nell'ultima apparizione in campo vincendo per 3 a 4 sul parquet del Monastir è cresciuta la consapevolezza di una squadra che in questa prima parte di stagione ha faticato a trovare continuità di risultati eppure guardando la classifica in campionato il match di sabato sera vede nettamente favorita Roma saldamente al secondo posto ad 11 punti di vantaggio sui Biancorossi però si sa le finali sono partite a sé dove i pronostici sono fatti per essere ribaltati con un Ital Service che vuole dare una svolta effettiva a questa stagione cercando di alzare in cielo l'ottavo trofeo della sua storia nella massima serie Biancorossi che per poterlo fare dovranno disputare una partita pressoché perfetta facendo a meno però dell'apporto di Arcidiacone che ha salutato giovedì pomeriggio compagni e staff trasferendosi alla Comar Reggio Calabria per la grande occasione di sabato la società di Lorenzo Pizza ha deciso di mettere a disposizione un pullman per tutti quei tifosi che volessero seguire e supportare l'Ital Service pagando una quota di 10 euro la partenza è fissata sabato pomeriggio alle 15.30 al Palafiera di Campanara dal calcio a 5 alla palla spicchi con un Ital Service Loreto Basket che prosegue il suo ruolino di marcia condito solo di vittorie aggiudicandosi anche le ultime due partite dopo aver battuto nel weekend il San Marino per 73 a 55 è arrivato il decimo successo consecutivo strapazzando il Gualdo Tadino sul parquet di Perugia per 45 a 71 e allora adesso andiamo a vedere qual è la programmazione di Rossini TV per questi prossimi giorni intanto questa sera si respira ancora aria natalizia perché vi raccontiamo quelle che sono le iniziative del Natale a Gabicce Mare quindi l'appuntamento è questa sera alle 21.20 e poi vi ricordiamo che c'è una nuova puntata di Spazio Z ai racconti della generazione Z che potrete vedere questa sera alle 23 ma anche domani ad esempio alle 15.20 oppure alle 22 in tutte queste repliche che sono scritte in grafica e poi domani mattina il nostro consueto appuntamento con la Rassegna Stampa vi aspettiamo in diretta alle ore 7.20 e con voi ci sarà Antonio Astuti e sempre nella giornata di domani alle ore 13.30 e alle ore 21 avrete la possibilità di vedere quella che è stata l'inaugurazione di Pesaro nel cuore quindi l'inaugurazione e l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo e sempre domani alle ore 16 vi trasmetteremo in diretta dal Teatro dell'Aquila a Fermo la giornata delle Marche la sanità che cambia più vicina ai cittadini e ai territori un appuntamento da non perdere tante tv locali saranno collegati in diretta e quindi anche noi di Rossini TV vi faremo vedere questa importante giornata delle Marche ho detto tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi rimanete collegati su Rossini TV per seguire tutti e tantissimi appuntamenti che sono in programma per i prossimi giorni e il consiglio è sempre quello di scaricare gratuitamente la nostra applicazione e seguirci sui nostri social Facebook e Instagram grazie a tutti buona serata adesso c'è il meteo